Dovemmo far fare la foto con la signoria e ha detto no Posto per Andrea! Posto buca giorno! Chi è? Porta di calcio! Porta di calcio! Porta di calcio! Porta di calcio! Martedì ho la partita del torneo Renale alle ore 5! E questo qua mi hanno messo la campetta! Aaaaaah! Ci facciamo un culo così! Ehi! 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 Carnello piccola com'è? Ciccino come lo vedi Francesco? Ciccino ha un po' di pancia però... Secondo te quante medaglie vinceremo? Allora siamo in questo passo se lo meno... Ehi! E ti porto questa cosa Francesco! Il Presidente merita un plauso da parte della cittadinanza San Andrea che si è impegnato moltissimo devo dire! Secondo te vincerà qualche medaglia lui? Steppino secondo me già ha vinto una medaglia! Bravo Neppino! Se volete impegnarsi per tutti noi, per tutti questi giovani qui! E quindi Peppino per me è già una medaglia torre! Grazie! Peccato che gioca nel mattino! Ehi! 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 E sto finito! Allora secondo te chi vincerà qualche medaglia della nostra squadra? Della nostra squadra! Il Giampiero secondo me potrebbe fare molto bene il tiro con l'arco! Ehi! Ci sono pure il tiro con l'arco! Ehi! Oh sabato! Adesso? Ok! Ehi! Guarda! Ti vado a prendere la cittadinanza! Ehi! Ecco! È una cosa sola! Eh! E allora mi dovete regalare qui! Un po' d'acqua! Poi non si può fare, ma non si può fare, ma non si può fare, ma non si può fare. Dove stai a domandare i tempi, mentre per la posizione dei nomi dovete mandare un rimedio, lo stai a domandare i tempi, ma non è un po' di più, ma non è un po' di più, ma non è un po' di più, ma non è un po' di più. Salute la teoria. Si, 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 si. Si, 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 si. A te la troverete il foglio con il nome di Sant'Andrea. Si, 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 si. A te la troverete il sogno. Si, 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 si. Amm. Ehi! Grazie al comune di Sant'Andrea Di Conta, grazie! Grazie al comune di Sant'Andrea Di Conta e salutiamo il prossimo settore, Sant'Angelo di Lombardi, con le notte di Dio andiamo in bravo assolutamente. Grazie a tutti!